Ecco da papà Morbidelli ad oggi diciamo l'azienda è sempre cresciuta e oggi potete contare su quanti clienti? Numero non lo sappiamo comunque tanti. Tanti clienti che vi hanno fiducia fin da quando ha aperto papà? Sempre a crescere. Morbidelli Mario. Mario che è stato il fondatore dell'azienda e che ha dato molto a questa attività. Si ci ha dato molto, ci ha insegnato molto negli anni. E oggi lo possiamo dire anche la nipotina di Mario. E' contenta. Si, l'erede, sarà la nuova frantoiana. La nuova frantoiana. Esatto. In collaborazione sempre con tua moglie che ovviamente ti affianca in questa attività e che adesso quest'anno mi sembra che le olive siano eccellenti. Si, un buon prodotto, 30% in più credo da anno scorso, mai come il 2017 però bisogna contentarsi. Bene amici, allora da questa splendida realtà di Ostra, provincia di Ancona sulla Valmisa, Morbidelli frantoio, chiunque vuole frantoiare qui da lui ovviamente trova le migliori macchine e che conosciamo molto bene, numero uno al mondo. Si, grazie.